2.500 metri, abbiamo fatto a piedi in 25 minuti esatti, la betta ha faticato un po', io anch'io a colazione era un po', abbiamo mangiato solo due grissini con un po' di prosciutto e un po' di parmigiano ed eccoci qua a guardare questa marmolada, eccola qua, marmolada di mirtilli, ecco qua vedete, qui si vede un pochino il panorama che non è cosetta da poco direi, io adesso non ci vedo perché sono contro il sole, ecco vedete qui il panorama a 335 gradi, eccoci qua la giornata è serena, ma questo ve ne accorgete anche voi, qui siamo sul passo sella, eccolo qua, là in alto vedete, in coppa alla montagna, noi andremo là in cima, fra un po' ci vedrete lassù, buona giornata.